Allora, la Pijama Run è un evento unico nel suo genere che ha ormai conquistato il cuore di tutti i biellesi, infatti questo lo dimostra il fatto che di anno in anno c'è sempre più partecipazione. Il Pijama porta con sé un doppio messaggio, quindi da una parte tutti vogliamo un po' immedesimarci ed entrare nei panni dei bambini che trascorrono molto tempo in ospedale durante il loro percorso di malattia, ma dall'altra parte rende questo evento anche molto divertente e colorato. E quindi ci dà la possibilità di fare beneficenza, di essere qui per una buonissima causa, divertendoci. In più, non dimentichiamo che un ulteriore messaggio della Pijama Run è quello dei benefici del movimento e dell'attività fisica. L'attività fisica permette di ridurre in modo molto significativo l'incidenza dei tumori, l'insorgenza di molti tipi di tumori, tra cui anche il tumore del colon retto, ma non solo. È di grande aiuto anche nel periodo post-malattia, durante le terapie, e previene di molto anche l'insorgenza di eventuali recidive. Quindi un evento che porta veramente tanti messaggi e che noi siamo molto contenti di poter diffondere insieme a tutti i biellesi, grazie all'aiuto anche di tante persone, associazioni e influencer che ci hanno aiutato a diffondere il messaggio e a invitare tante persone ad iscriversi a questo evento. A conclusione dell'evento di venerdì ci saranno anche dei riconoscimenti, sono dei premi assolutamente simbolici perché la corsa, la camminata non è in alcun modo competitiva, però ci piace la possibilità di riconoscere ad alcuni partecipanti l'originalità oppure il fatto di aver organizzato dei gruppi particolarmente numerosi. Sappiamo che ci sono dei gruppi che si stanno sfidando, lo vediamo dalle iscrizioni, ce ne sono già di molto grandi, tra cui posso citare il gruppo degli alpini di Costato, le aziende che si sono iscritti con i loro dipendenti come gruppi, qui ad esempio Sudvolle, Mondoffice, ma c'è anche un gruppo del comune di Biella, in rappresentanza del comune un gruppo molto nutrito a cui farà capo il sindaco e quindi siamo molto contenti anche di questo.